E' purtroppo pesante il quadro che emerge dalle prime rilevazioni effettuate dalle aziende agricole dopo le gelate del 7-8 aprile che hanno interessato tutto il territorio regionale con danni che arrivano a sfiorare l'80% delle colture. Migliaia dal nord a sud dell'isola agli etari di coltivazioni bruciate dall'improvviso calo di temperature. A subire i maggiori danni sono stati i vigneti. Un quadro preciso e attendibile lo avremo nei prossimi giorni, afferma il presidente dei col diretti Sardegna, Battista Qualbu, anche perché su alcune colture gli effetti non sono immediati. Ma è comunque evidente che le perdite sono ingenti. In alcuni casi però le conseguenze si vedranno solo nelle prossime annatte. La regione ha intanto avviato le procedure per la segnalazione dei danni subiti dagli agricoltori questa settimana. Siamo intervenuti tempestivamente, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Gabriella Murgia, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni dai sindaci dei territori colpiti dal grave evento climatico. Abbiamo quindi provveduto a incaricare l'agenzia Laore per svolgere gli accertamenti e quantificare i danni nel più breve tempo possibile. Siamo in stretto contatto con gli uffici del ministro Patronelli, conclude l'esponente della giunta Solinas, che si è reso disponibile a intervenire con ulteriori risorse statali.